Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore dipingere ad olio su una base acritica in molti mi avete fatto tantissime domande su questo argomento e avevo risposto che non ero tantissimo d'accordo e poi ho ricevuto diversi commenti, tra cui questo di Mattia che mi diceva comunque di provarla come tecnica che avrei velocizzato il tempo e se sono uno a cui piace sperimentare accolgo subito la richiesta perciò prendo un melograno e un limone e preparo una composizione perciò adesso dovremmo dipingere su una base acrilica però la faccio un po' a modo mio ecco come il processo che porta all'essiccazione del colore ad olio è chiamato polimerizzazione se noi andassimo a mettere uno strato di colore acrilico la polimerizzazione avrebbe solo in superficie cioè tutta la quantità di olio è questa, non passa però quali possono essere i problemi che creandosi uno strato superficiale questo con il tempo si possa staccare per questo secondo me dobbiamo creare un aggancio tra la pittura ad olio e quella acrilica per questo ho preso una vaschetta quindi ciò che faremmo con un acrilico ne metto veramente poco perché ne servirà pochissimo è un po' come se fosse il primo strato quello dopo la terra di Siena solitamente dove ne andiamo a definire tutti i colori prendo un po' di gesso acrilico io utilizzo questo della Pebeo e praticamente andiamo ad aggiungere dell'inerte perché il gesso acrilico contiene già acrilico il gesso è un'inerte e quindi è quel materiale che ci permette di rendere poroso anche questo strato tanto non abbiamo la necessità di fare questo primo strato completamente perfetto perché sennò dipingeremo direttamente ad acrilico un po' d'acqua bagno il pennello e mischio e vado riempire lasciamo asciugare ok allora dopo qualche minuto si è asciugato prendo due spugnette una mi servirà per mettere un po' di olio l'altra per toglierlo questo ormai lo sapete per rendere più fluida la pennellata il fatto di aver messo il gesso all'interno quindi fa penetrare quest'olio all'interno lo fa arrivare alla tela abbiamo superato quindi due fasi la prima quella con la tela di Siena che potremmo anche non fare insomma ma comunque lo strato in cui andiamo a definire i colori delle masse adesso bisogna capire come si comporterà il colore andrò ad utilizzare pennelli comunque non molto grossi quindi partiamo da questo limone qui sopra voi non la vedete ma ho l'immagine di riferimento dovrebbe vedersi anche un po' la tavolozza quindi comincio con un po' di giallo cadmio e provo subito ad andare sul supporto naturalmente in passato io ho già provato a dipingere ad olio su basi acriliche in effetti la sensazione è notevolmente diversa perché comunque detto molto banalmente in paroli semplici il colore rimane lì ed è questa una cosa che aiuta in questo caso aiuta però anche è il fatto che non stiamo dipingendo su un supporto grande quindi le pennellate sono più piccole più contenute ed essendo più piccole più contenute sono più cariche di colore in effetti questo può essere un buon modo se dobbiamo dipingere un ritratto un ritratto ma su una grande tela quindi non solo ritratto ma anche il corpo e tutto e quindi potremmo magari decidere in un pezzo soltanto del nostro dipinto di lavorarlo prima in acrilico diciamo che in pochissimo tempo veramente in 5 minuti sono riuscito ad ottenere diciamo un buon risultato di questo limone questo perché come dicevo prima banalmente il colore rimane qui anche se comunque penetra perché c'è l'effetto del del gesso acrilico se volete dipingere utilizzando questa tecnica vi consiglio però di non lasciare pennellate evidenti qui so che andrà all'ombre quindi non mi sto a preoccupare però se stessimo lavorando su una superficie come questa e non siamo stati proprio pulitissimi con le pennellate può succedere che si vedano ad esempio se io vado qui con questo colore chiaro vedo l'ombra e questa è fastidiosa in questo caso andrò anche a dipingere sull'ombra con lo stesso tono ma se lì ci fosse un colore più più chiaro si sarebbe visto avrebbe dato fastidio quindi cerchiamo di essere meno definiti quando facciamo la base ad acrilico e di utilizzare quindi meno pennellate e taglienti naturalmente non vi sto raccontando tutti i passaggi perché non è proprio un tutorial appunto sto testando la pittura su una base acrilica ma sto andando semplicemente a riempire come potete vedere tranquillamente tutti i colori che sto utilizzando sto andando a riempire e sfumare contemporaneamente i colori che vedo nell'immagine è sempre bello avere la libertà di sperimentare in questo caso essermi liberato della tesi da tutti gli impegni che avevo mi fa stare meglio molto meglio provo a simulare la rugosità del melograno dipingere con una base comunque acrilica può anche aiutarci in caso a creare una texture se avessi voluto dare più la sensazione sia al limone che al melograno di rugosità avrei potuto lasciare delle pennellate più materiche tanto il gesso si presta anche a queste cose bella questo sì che è soddisfacente questo riempirsi tranquillamente dello sfondo al di là del risultato è effettivamente soddisfacente tutto sommato non è male anzi abbiamo ho velocizzato un sacco il lavoro facendo questo primo strato mi piace molto la risposta che ha il colore ad olio su questo underpainting di gesso e acrilico quindi chissà a farci anche una guida al ritratto utilizzando una tecnica come questa fatemelo sapere se vi potrebbe interessare comunque salvo i imprevisti dell'ultimo secondo mi ha veramente stupito quindi promossa come tecnica 10 su 10 sì sicuramente l'audio utilizzerò anche per per altro e a fine video vi dico che cose effettivamente mi ha colpito di questa tecnica quindi nonostante questo dovesse essere un test diciamo che è uscito comunque un dipinto carino che certo avrebbe ancora da essere aggiustato in alcuni punti però inizia funzionare e ne sono rimasto veramente soddisfatto do qualche altro ultimo tocco quando sarà asciutto questo molograno servirà una bella velatura secondo me per farlo risprendere al massimo e quindi questa è la mia variante su come dipingere su una base acrilica o meglio su una base gessosa acrilica devo dire che mi ci sono trovato veramente bene anche perché sono riuscito a raggiungere livelli di realismo già alti nonostante fosse il primo strato ad olio e anche molto sottine mi è piaciuto molto il rapporto olio su acrilico e la presenza del gesso comunque ha tirato a sé un po' di olio quindi rendendolo un po' più secco ed essendo più secco più facile da modellare da muovere e quindi ti permette di creare effetti più realistici naturalmente questo andrebbe terminato con qualche velatura però già così è un ottimo risultato e già mentre facevo questo video ho pensato alla possibilità di realizzare una guida al ritratto partendo da una base acrilica gessosa fatemi sapere nei commenti se vi potrebbe interessare promossa 10 su 10 questa tecnica sicuramente funzionerebbe anche ad acrilico da solo però è per creare un aggancio dell'olio alla tela stessa e non a renderla impermeabile come se con l'olio andassimo a dipingere su un pvc su una plastica si aderisce però con il tempo potrebbe staccarsi in quanto sono semplicemente due strati non aggrappati però sempre di essere chiaro quando parlo perché a volte tendo a semplificare degli argomenti per arrivare prima però non so poi se effettivamente queste informazioni passano quindi spero che questo video ti sia piaciuto se sì ti chiedo di lasciare un mi piace un commento per condividere la tua opinione se dipingi una base ad acrilico che cosa fai e come ti ci trovi lasciami un commento qui sotto e ti chiedo di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su youtube grazie se avete visto tutto il video arrivederci ciao 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 ciao